Importantissimo successo esterno del Taranto che spugna il capozza di Casarano con un gol di Genchi al diciannovesimo del primo tempo. Impresa non facile perché Rosso Blu di Ragno dovevano affrontare una delle migliori squadre tra le più attrezzate del torneo. Riscattare dunque la sconfitta interna nella prima giornata era la parola d'ordine e il Taranto lo ha fatto. Ragno cambia modulo e interpreti. Gioca con la difesa 3-3-5-2 l'atteggiamento tattico dell'allenatore Tarantino con De Caro, Manzo e Allegrini dietro. In mezzo al campo invece vengono schierati Guaita a destra, Ferrara a sinistra, centrocampo interno a tre con Matute, Galdian. Al suo esordio il giovane Cucurullo che risulterà tra i migliori in campo. Lì davanti Genchi e Favetta. La cronaca al decimo Taranto subito pericoloso. La formazione Ionica ha giocato in maglia gialla con Favetta che di sinistro colpisce il palo pieno alle spalle di Guarnieri. In curva sud per il Taranto ci sono circa 300 tifosi giunti per l'occasione dal capologo Ionico. Al diciassettesimo c'è una cross di Ferrara in apprezzione. La retroguardia rosso-azzurra poi il tutto sfuma in calcio d'angolo. Al diciannovesimo il Taranto passa in vantaggio. Cucurullo ruba palla, la fida a Favetta che si destregia bene al limite dell'area di rigore. Appoggia Genchi che al volo di sinistro appena dentro l'area di rigore lascia partire un gran tiro che manda il pallone ad insaccarsi sotto l'incrocio. Casarano 0, Taranto 1, primo gol stagionale di Genchi. Al trentacinquesimo c'è una punizione di Tiscione che viene parata. Al trentaseiesimo c'è un contatto in area di rigore rosso-azzurra, Matera e Ferrara. Il difensore del Taranto finisce giù, l'arbitro il signor Andrea Ancora di Roma valuta la simulazione e estrae il cartellino giallo per Ferrara. Ma nel frattempo si crea una baruffa, ne fanno le spese Matera e Genchi che vengono ammoniti. Poi Genchi viene ammonito nuovamente per un diverbio con Daiello e va anzitempo sotto la doccia. Questo rappresenta una tegola per Mister Ragno che resta in dieci uomini ma non cambia l'assetto tattico. Il Taranto è 3-5-1 al quarantaduesimo. Tiro al volo di Mincica per il Casarano paraterra a Giappone ma la traiettoria del pallone era destinata sul fondo. Nella ripresa Taranto subito pericoloso. Al primo minuto un colpo di testa di Favetta, la parata in calcio d'angolo sopra la traversa di Guarnieri. Poi la girandola delle sostituzioni inizia al quarto con Marino che entra per Cucurullo. Al settimo c'è un episodio davvero curioso. C'è Tiscione in fuorigioco, la segnalazione dell'assistente. L'arbitro non se ne accorge, assegna addirittura un calcio di rigore al Casarano. Poi viene richiamata l'attenzione del direttore di gara dal suo assistente e ancora torna sui suoi passi. Al decimo c'è una munizione per De Caro. Poi al diciottesimo una punizione di Favetta con il pallone che viene deviato in calcio d'angolo da una prodezza dell'estremo difensore Guarnieri. Al ventesimo il Casarano si fa pericoloso ma con un tiro di Morleo dalla lunga distanza. Pallone leggermente deviato che inganna il portiere Giappone e sbatte sul palo. Poi più nulla da raccontare se non le sostituzioni. Croce per Favetta, Benvenga per Matute e Riccio per Ferrara. Si giocano sei minuti di recupero ma non sono sufficienti al Casarano per pareggiare e per la gioia dei circa 300 tarantini il Taranto porta a casa tre punti fondamentali per la classifica, per il morale, per la società e per lo stesso staff tecnico oltre che per la squadra.